Non hai mai fatto Dolcetto Scherzetto? No, ma Lobo mi ha detto che è proprio uno spasso! È vero, 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 vero! Le persone ci daranno tanti dolcetti! Ah, le persone ci daranno dolcetti di ogni tipo! Gelatine al cetriolo, biscostrelli... Anche i Monster Mellow! Ah, quelli sono i miei preferiti! Sono sicura che ci daranno dei Monster Mellow! Ma certo! Ti basterà dire Dolcetto Scherzetto e... Ta-da! Caramelle! Dolcetto Scherzetto! Buon Halloween! Grazie! Sei pronta a fare qualcosa di nuovo e divertente? Ah, ok! Guardi qui! Mega Frankie! Oh, davvero impressionante! Wow! È un trucco bellissimo, Frankie! Grazie, ma non ho ancora finito! Oh! Ops! Grazie per l'aiuto, Abuelita! Grazie per le caramelle! È il momento di un po' di magia! E nella notte più magica dell'anno Anche gli spaventapasseri balleranno! Ti va di ballare? Grazie! Oh, sì! Le mie muovezze sono... Le migliori! Oh, rospetti! Grazie!